ciao ragazze allora sono preoccupatissima e sono in questa tenuta molto casalinga perché devo andare a farmi lo chatrush allora l'ho comprato oggi insieme a mia sorella che è qui come me quindi magari qualche volta la vedrete passare e niente ho comprato questo vide la l'oreal lo sfumato l'ho già aperto e dentro c'è una crema schiarente una boccettina di rivelatore in crema che probabilmente ha ossigeno poi la spazzolina che serve ad applicarlo e le istruzioni la polvere decolorante un trattamento finale che è tipo un balsamo credo e i guantini poi la scatola è vuota allora come istruzione vabbè dice di preparare la boccetta di dividere i capelli distribuire con la spazzola il prodotto e niente attendere quindi ora vediamo intanto preparo la boccetta e poi vediamo allora ho messo tutti gli ingredienti e adesso mi dicono di prima fare così anche i guanti neri d'assassino e fare così e poi scuotere così e aprire qua su è veramente strabordato infatti nell'istruzione diceva di aprire subito perché se non esplode allora ora vado a mettere bisogno di un assistente così vuole a pettinare e divido questo devo mescolare ancora sta continuando a uscire e divido i capelli in due ciocche davanti a me e decido da dove voglio partire più o meno voglio partire da qui più o meno quindi niente vado con la spazzola dicono di andare a mettere il prodotto sulla spazzola e andare sui capelli e non c'è scritto se bisogna andare in senso orizzontale o verticale però io vado verticale in modo da avere meno di che niente dritte possibile vado a riaggiungere e se vado a morire tutti i volori grazie a tutti Grazie a tutti. Ciao amore ci siamo, ho già messo un po' sui capelli e sta già schiarendo, ora devo solo decidere quanto farlo schiarendo, c'è scritto da 25 a 45 minuti però probabilmente lo terrò meno perché da quando ho iniziato da questa parte, aiuto, da quando ho iniziato da questa parte sono passati sia da 10 minuti e sono già schiarita abbastanza, quindi non so, ora vedo un po', continuo comunque a mettere, tanto ci metto quindi, vedete? Se andate così fate più striscia dritta, quindi guarda così un po' spazza, anche con le mani qua Allora sono concentrata, faccio le facce però non mi sento ancora convinta, non mi sento soddisfatta ancora, perché comunque se vedete nella scatola passano da un colore del genere a uno così chiaro, e qui sotto di sicuro non c'è questo chiaro, io lo so, non è così chiaro quindi, sto aspettando, vedremo, 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 quanti minuti sono passati assistente? Devo toglierlo fra due minuti in teoria da quello che dice la scatola, non lo sapevo ancora Quanto ce lo lascio ancora? Boh, altri 5 minuti, poi lo sciacquiamo Allora, eccomi qua, allora ho ancora i guanti perché sto facendo lo sciatuscio a mia sorella, ora lei si deve sciacquare Io invece mi sono già sciacquata e si sono quasi asciugati Allora, vedo che dal colore della videocamera sembrano rossissimi, gialli, è un colore orribile Comunque sono abbastanza sul rosso perché comunque avevo una base di un colore rosso sotto che mi era rimasto però sono comunque dorati tipo, ramati, non sono proprio rossi E niente, mi piace parecchio E è venuto bene, è facilissimo da fare, a dire il vero, proprio facile Non è, cioè basta spazzolare bene in verticale, spazzolare bene E poi viene, insomma, non ci sono stacchinetti, vedete qua sono andata un po' più su però va anche bene, insomma, non è che deve essere preciso preciso Quindi niente, ora aspetto che mia sorella si sciacquo, poi vado a mangiare finalmente perché è tardi E ci vediamo al prossimo video in questa veste così nuova Mi sono sporcata tutta, scusate E ci vediamo al prossimo video Ciao! 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 Grazie a tutti.